Con l'alfabeto della Resistenza, un video che raccoglie le parole dei rappresentanti del mondo della cultura, delle istituzioni, dell'attampa, dell'università, con la visione di documenti di archivio, di pagine dei quotidiani dell'epoca e di immagini che raccontano la Resistenza, la Fondazione Livagno ricorda una fase molto oscura della vita democratica italiana e ne festeggia la fine con la liberazione il 25 aprile, aprendo le porte della sua biblioteca di comunità. Vogliamo raccontare con la memoria delle parole la storia di quegli anni, circa 20 di fascismo e 5 di guerra, che hanno lasciato sul terreno migliaia di italiani, giovani, donne, partigiani e soldati, cancellando spesso famiglie intere, torturandole e gettandole in fosse comuni. Poi, la fine di tutto, è la creazione del Comitato di Liberazione Nazionale, la nascita della Costituzione, la nostra Costituzione, che di quel periodo, perché mai più si ripeta, porta tracce e riferimenti. Il nostro dovere come fondazione è narrare gli accadimenti di quel tempo, perché le nuove generazioni possano conoscere la storia, studiando un'epoca che non li ha visti né testimoni né protagonisti. Approfondirla con i documenti, con la stampa e con i racconti di chi l'ha vissuta, così che non si perda la memoria e si sviluppi in loro coscienza critica e solidarietà collettiva. La libertà è un bene prezioso, da difendere ogni giorno, con gesti semplici, comportamenti rigorosi, regole chiare, ma soprattutto con la gioia di vivere insieme, nel rispetto delle diversità e senza lasciare indietro nessuno. Buon 25 aprile a tutte e a tutti.